Le due ragazze sono impostate entrambe in guardia normale, abbiamo Irma testa a longilinea, e allunga il suo sinistro. Pensate che Irma testa dopo gli europei in partenza per le Olimpiadi giovanile a Nanchino ha subito un intervento all'appendice e in tempi rapidissimi ha recuperato e ha partecipato alle Olimpiadi vincendo la medaglia d'argento, grande tenace e determinazione. Ocetta Marchesi ha vinto una splendida medaglia d'oro agli europei, con tre grandi incontri e risultando il miglior pugile del torneo.